A distanza di qualche mese siamo tornati sulla banchina del porto di Pesaro dove alle nostre spalle c'è il cantiere riguardante l'ex consorzio agrario ovvero quel rudere faticente che fu abbattuto lo scorso mese di novembre. Ora arrivati alle porte di agosto si sarebbe già dovuto intravedere lo scheletro edilizio di una nuova imponente struttura residenziale, due torri da circa 84 appartamenti destinati a cambiare la fisionomia del porto e del tratto terminale di Viale Trieste. E invece dalla fine di febbraio i lavori sono fermi o meglio sono tornati gli operai per realizzare alcune opere che agevoli l'ingresso dei mezzi pesanti in attesa che si sblocchi questo stop ai lavori. Lo stop ai lavori arrivò per un'indagine della Procura della Repubblica alla quale si rivolse anche la Capitaneria di Porto per un approfondimento sulla praticabilità dei permessi di costruzione ad uso residenziale nell'area portuale rilasciati dal comune di Pesaro nel 2018. Da lì è scattato un ingarbugliato incidente probatorio sull'interpretazione del piano regolatore e sulla possibilità di realizzare in quest'area strutture edilizie diverse da quelle ad uso strettamente connesso alle attività del porto. E così a marzo furono anche indagati tre tecnici. Nei giorni scorsi si è svolta un'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari alla presenza di tutte le parti coinvolte, compreso il comune di Pesaro che nella faccenda ha in ballo oltre 2 milioni di euro di oneri urbanistici già versati e soprattutto il fondo di investimento israeliano che detiene la quota maggioritaria delle complesso edilizio in via di realizzazione. Una situazione davvero controversa che ha bloccato la realizzazione di più di 80 appartamenti per buona parte dei quali c'era già un impegno all'acquisto e che ha fermato anche un cantiere con una cinquantina di persone coinvolte. Il giudice ha rinviato l'incidente probatorio al 26 ottobre per avere in mano le relazioni complete dei periti esperti di urbanistica nominati dal tribunale. Dovrebbe essere lo snodo decisivo per avere un po' di chiarezza su una situazione altrimenti estremamente nebulosa perché non si sa ancora se si potranno costruire questi appartamenti ma di certo si sa che i lavori non potranno riprendere almeno fino al mese di novembre.